Stamattina io mi sono svegliato e ho trovato la mia faccia su alcuni giornali nazionali accostata tra l'altro al termine mafia, questo è uno dei giornali. Quando ho visto questa fotografia e ho oscurato i volti delle due signore, io mi sono chiesto chi fossero e la prima cosa che ho fatto è che ho contattato le persone con le quali ho lavorato in questi anni sul tema del contrasto alla criminalità organizzata, sul tema anche dell'antimafia sociale. Ho chiamato innanzitutto l'ex comandante della stazione dei carabinieri della città vecchia e poi l'ex dirigente della polizia di Stato e abbiamo avuto difficoltà a rintracciare chi fossero queste due persone in fotografia. Poi ho chiamato Don Franco, il paroco della cattedrale e abbiamo capito tutti insieme che sono due persone che sono parenti del boss Gabriati ma non hanno nulla a che fare con il resto della famiglia.